ciao a tutti davide audiocostruzioni oggi parliamo di video vendita di marzo 2019 la prima parte oggi andremo a vedere tante cose come sempre per i prezzi andate a vedere sul sito perché mi sbaglio molto ultimamente la testa non mi funziona più tanto bene perché talmente tanta roba che non so più dove prendere e come dicevo mi posso anche sbagliare voi guardate sul sito c'è la sezione apposita e trovate tutti i prezzi fatti bene e andiamo avanti allora partiamo subito perché della roba come sempre ce n'è veramente tanta intanto questo oggetto strano no parliamo di alipax è un artigiano olandese ma in netherlands si che ha fatto questo integrato solo linea veramente particolare a certi può piacere certi no comunque è circa un'ottantina di watt no con questi v meter bellissimi no vi voglio far vedere come 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 funzionano ecco hanno il lo e la lai no tre entrate se guardate se figo questa è una vera figata i fai no con questi v meteroni qua tra l'altro il buio è bellissimo e lo metto fuori a 380 euro però non lo spedisco perché secondo me è abbastanza delicato e dietro c'è veramente tante entrate comunque lo trovate sul sito anche descritto bene poi dopo come sempre mc 350 a prezzo straordinario parliamo di 3.900 no un ex demo quindi garanzia di cinque anni accu face e 2 e 70 ok a 3.900 euro anche questo è un prezzo super scontato ma 6.600 questo invece questi due sono nuovi quello lì è usato a 4.300 bellissimo unico proprietario con imballo e abbiamo anche un macintosh i302 praticamente con un anno di vita a 4.500 euro quello lì un finalone straordinario e rimangono quattro anni di garanzia di garanzia abbiamo le solite clipsler 620 f in promozione a 750 queste che non sbagliano un colpo nel senso che chi le viene ascoltare veramente gli piace moltissimo questo questi diffusori che sono l'età noi le 7.4 che sono super scontate mi pare a 650 ecco come sempre i prezzi dopo li andate a vedere sul sito che vedete bene altre cose qua arrivate molto molto interessanti abbiamo jeff roland il pre no che si chiama esattamente non lo so ma sul sito lo trovate è un conto vendita a 2.500 euro poi dopo questo pioneer la 30 insomma sempre molto interessante ha poco più di 200 euro il suo network server di rete n50 della pioneer ok mi pare a 350 però vado un po a memoria a bellissime iacquino iaoin mc 135 lampi valvolare è praticamente nuovo che il cliente l'ha preso l'ha tenuto un mese o due non lo so con l'imballo e quant'altro siamo attorno i 550 euro molto molto interessante qua c'è la solita roba audio research che l'avete visto tante volte poi di molto interessante questi devo ancora fare il prezzo però li trovate sul sito arkham l'otto il cd player le se no è un bel cd player e il suo amplificatore alfa 8r un'ottantina di watt suono molto molto caldo questi non costeranno molto e sono veramente molto interessanti roxan il k2 sacan candy cd player veramente bellissimo con l'imballo ancora la pellicola sul telecomando a 650 euro poi dopo questo mi è entrato proprio ieri sera nord star design la meccanica al 192 no meccanica un caricamento dall'alto leggi masterizzati senza problemi veramente molto molto bello con il suo convertitore l'extremo sempre della nord star e il suo un cavo particolare che lo trovate poi sul sito che non è l'originale un cavo che costa anche un sacco di soldi imballo telecomando e quant'altro siamo attorno i mille euro qua mark levinson il 27 è un 100 watt tenuto in maniera fantastica parliamo di unico proprietario 2300 euro qua chi vuole un bel finalone non vuole spendere molto è il suo andiamo avanti allora qua vedete che sono anche il comodo parliamo di crel il cav 300 no questo è un integrato solo linea americano da 150 watt questo della corrente cena che il lavoro esagerato che è col suo bel telecomandino siamo poco sopra ai 1200 euro se non vado errato finalini fly mode per chi vuole 100 watt in classe di li ho messi fuori a 180 euro cada uno qui chi vuole fare un bel lavoro suonano davvero molto bene yamaka pre finale professional series che quelli che piacciono a me comunque siamo a 1150 per tutte e due però qua parliamo di prima luna il prologue 2 no con le kt88 imballo non ha un microsegno siamo poco sopra i 1000 euro sembra uscito di fabbrica con tutte le sue valvole originali praticamente nuovo ecco come dicevo con l'invalvo andiamo avanti pioneer allora qua abbiamo un masterizzatore qua abbiamo il tunnel l'equalizzatore e i prezzi come dicevo li trovate sul sito a 757 questo è un integratone della serie reference bellissimo vedete quando hanno questa scritta qua reference series della pioneer sono tutte belle macchine se le trovate anche non da me prendetele tranquillamente perché suonano da dio sono colorato un po vintage ok però e siamo a 350 euro copland il cta 506 dovrebbe essere questo qua ha pochissimi mesi di vita mi pare quattro mesi di vita quindi nuovo con imballo l'ho venduto io no preciso incredibile con tutto garanzia di 20 mesi rimanente 2500 euro poi dopo andiamo a vedere qua una bella coppia di clip sherry 3 nere a 1250 1300 monitor audio silverotto bellissime laccate ok qualche piccolo segnettino in giro però sono delle belle casse siamo attorno ai 900 euro tanno i che vi otte ribordate molto belle queste per chi gli piace la classica sono una figata davvero sono proprio bene reflex anteriore quindi non abbiamo problemi di posizionamento siamo a 1200 euro andiamo qua a vedere audio research vc è il 55 l'integrato col suo telecomando tenuto benissimo appena rivisto dal da daniele il riparatore il stato pulito revisionato combiato qualche condensatore insomma tutto un lavoro figo ok 1500 euro poi dopo poi dopo poi dopo poi dopo scusa filo andiamo qua beh il solito lento ve l'ho fatto vedere altre volte ho fatto proprio un video a 2.30 nuovo cambridge audio cxn la prima versione a toni 600 euro ma bellissima di questo con imballo è un server di rete radio internet bim bum bam maranz cd 15 bellissimo con l'imballo sigillato i quali a 950 euro un lettore cd sa cd davvero perfetto musical fidelity la 100 questo per chi gli piace il suono caldo col basso boom bello rotondo è un classe a da 50 watt mi parla una roba del genere siamo a toni 500 euro ma lì suonate veramente bene xindac pre ma temo di averlo già venduto perciò è inutile che ve lo faccio vedere allora sempre filo partiamo qua allora qua abbiamo una bella serie di integratini a valvole un isola serce il simply 2 no siamo a 8 900 euro bellino con le valvole in ottime condizioni e un single ended da 10 watt circa invece qua abbiamo noi arland questo è molto più potente siamo a 50 watt con le due raddrizzatrici che nei valvolari con le raddrizzatrici diciamo è un pregio no perché invece di avere il ponte di diodi per raddrizzare la corrente usano queste valvole qua e il suono ne cioè ne giova molto come dicevo 50 watt siamo attorno agli 850 euro poi ho ritirato tutta una serie di dat che dopo ne vedrete degli altri no che devo ancora apprezzarli ho visto in giro siamo più o meno attorno ai 500 euro no però sono veramente belle della serie s mi pare che si chiami è questo il 60 questo il 59 ma ne ho anche altri comunque sono bellissimi come dicevo il prezzo è circa quello lì se vi interessa anche qualche cassettina cioè anche qualche cassettina sony 730 sempre della serie s un bel integratore da 100 watt circa a 550 poi dopo ritirato in conto vendita queste anfion qua che voi non le conoscete molto però credetemi venite ad ascoltarle perché suonano benissimo queste anfion qua hanno il woofer anche laterale no e siamo circa 2000 euro comunque qua dovete guardateci bene sul sito perché allora queste sono una figata questo è stilo si chiamano cx 2 o 3 mi pare le ha progettate quello dell'avalon no quindi sono abbastanza brillantine insomma sono chiare dinamiche costavano lira di dio perché 3 milioni e mezzo in lire non lo so le ho messe fuori 3 80 3 90 finti di ascoltare perché sono veramente belle qua andiamo avanti queste le avete viste più o meno anche le altre video vendite le pro ac le minu le concertino che rischia un minuetto siamo attorno ai 700 euro e sono bei diffusori o dei bei sub che della cf tutti a prezzi molto molto interessanti li trovate sul sito voglio far vedere una cosa non capisco che una volta li avrei venduti benissimo adesso sono qua da un po coppia di xindac fa gold guardate che che cavettini oro olo veramente belli adesso voglio dire 250 comunque lo trovate sul sito il prezzo si insomma vedete delle delle robe pro ac 125 a dobbiasse fuori a 950 silver 200 nuove super prezzo 980 euro della monitor audio costerebbero 1.700 di listino ma andiamo ancora avanti tanto filo vi voglio fare voglio far vedere la cosa perciò lo sai benissimo abbiamo ritirato questo torne 125 con è un braccio mission esoterro no gli abbiamo fatto la base tutta laccata nera bellissima con anche il suo porta portabraccio sempre nero laccato 125 torres 950 questo è un giradiscone andiamo avanti parliamo qua a bet b 100 b 400 scusate è un cd danese no fatto dalla densen ed è un cd che suona anche molto bene per ora non ho il telecomando se riesco a racimolare un telecomando compatibile lo provo a vendere attorno i 700 euro e questo suona veramente molto bene poi dopo le solite cose nad 3 vedo niente 356 a 480 euro con telecomando e quant'altro nad c370 questa è una bestia da 120 watt molto interessante e siamo a 500 euro costava 1.100 di listino minimax chi vuole un bel lettore cd a valvole l'ho messo fuori mi pare a 330 quello là sotto quello lì suona davvero molto ma molto bene ora andiamo qua donka da poco a questo mi piace vabbè le clips e le gl 43 33 che sono erano condizioni stupende ma le ho già vendute perciò niente andate devo su consegnare questa sì che è una bella piastra di registrazione tascam 22 4 monta solo le bobine piccole però è tenuta benissimo l'ho appena portata da daniele perché c'era qualcosa per i freni funziona che una meraviglia riesco a darla con anche le bobine e vi do anche due bobine nuove in alluminio bellissime no che dopo vedrete nel sito le foto siamo a 500 euro questa qua è veramente una figata ok forse anche 450 verrà riesco a dare andiamo avanti andiamo un po qua 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 abbiamo belle queste allora qua parliamo di tl no le cs 3.5 le ho messe fuori a 12003 se non vado errato sono strepitose questi diffusori qua molto americani come suono penso belli dinamici belli col suo equalizzatore come dicevo 12003 secondo me si fa fatica a trovare delle cose così belle a questo prezzo poi dopo qua abbiamo qualche radio interessante questo che ancora sul sito non lo metto perché non l'ho messo ma va bene adesso vedrò di mettercela perché gusta a me ok questa radiorina della maranzi amaca tutta roba è molto molto interessante a prezzi cosa questa piastra avevo venduta ma dopo il cliente ha cambiato idea stamattina perciò è ancora disponibile una bella piastra kenwood a 90 euro c'era un problema che non andava tanto bene avanti indietro daniele me l'ha messo a posto e 50 euro per la riparazione perciò vedete un po voi va bene niente io direi che questa prima parte è finita come sempre guardate i prezzi che non mi sono sbagliato su audio costruzioni puntocom e iscrivetevi al mio canale youtube così siete sempre belli che aggiornati precisi ok ciao ciao